Neanche il tempo di tagliare il nastro e la sala ibrida del San Bastiano è già attiva. Entro il 2021 la strada pedemontana sarà percorribile, nel 2022 spazio agli innesti sulle autostrade. Sindaci relegati nel castello e 800 alpini sul Ponte Vecchio, cerimonia intima per l'inaugurazione del monumento. Il presidente Zaia è presente all'inaugurazione dei lavori per la nuova piazza Duomo di Rossano Veneto. L'alto piano ora ha davvero paura dei lupi dopo gli ultimi incontri ravvicinati e le ultime predazioni. Paura a Tezze, donna investita da una Mercedes mentre attraversa la strada. Cartigliano già primo in classifica dopo due sole partite, stagione con lo sprint per i biancazzurri. Ennesimo incidente sul lavoro all'oreggia, pittore cade da un ponteggio e muore. Schianto lungo la strada regionale, 307 feriti, una mamma e il suo bambino. Edizione sorale di Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. Parliamo subito dei primi interventi chirurgici nella sala operatoria ibrida del San Bastiano. Allora sentiamo com'è andata. Dopo allestimento con l'audio, inaugurazione e taglio del nastro, con relativa benedizione del cappellano del San Bastiano, ora la palla, anzi il bisturi, è passato ai medici, che hanno iniziato a utilizzare la sala operatoria ibrida al secondo piano dell'ospedale di Bassano. Una prima giornata con tre interventi per prendere confidenza con gli strumenti e poi aumentare sempre più. Andremo a testare, a conoscere in maniera un po' più approfondita sulla pratica clinica quello che l'angiografo può fare. Quindi partiamo un po' in sordina, ma per poi potenziare l'attività nei giorni successivi, arrivare a regime nel giro di qualche giorno, facendo ovviamente molti più pazienti. Un grande esempio di collaborazione tra pubblico e privato, i 55 imprenditori del territorio, riuniti nell'associazione Helios Onlus. Un progetto dietro l'altro, un acquisto di strumenti dietro l'altro, fino alla sala ibrida. Un'operazione da primato, perché è la prima in un ospedale pubblico del nord-est. Altre strutture stanno cercando di averla, ma Helios è arrivata per prima. Grazie anche a tutti i sostenitori che in questi anni sono stati vicini ad Helios nelle scelte. Continueranno ad esserlo con nuova energia e passione per affrontare e realizzare le sfide future. Vorrei sottolineare inoltre che in questo progetto il messaggio di Helios «Rendiamo contagiosa la solidarietà» non è uno slogan, ma è una bellissima realtà. Continueremo con un cuore aperto ed energia attrattiva per garantire nuovi impegni sempre, con tanta passione e determinazione. Per il presidente Luca Zaia, la presenza a Bassano è l'occasione per ricordare che ci sono in Veneto 500.000 prestazioni rimaste in sospeso perché il Covid è diventato la priorità e che i vaccini, pur se libera scelta personale, aiutano la sanità veneta, che nei 68 ospedali eroga 80 milioni di prestazioni e gestisce 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Io non vengo a fare la promozione dei vaccini, non aspetta a me. E non voglio neanche colpevolizzare chi decide di non farsi il vaccino. È un sentimento la paura. Però da qui se hai questo sentimento che è da rispettare, non si può trasformare nella costruzione di alibi a volte assurdi per far quasi passare l'idea che l'81% dei veneti sono degli idioti perché si sono vaccinati. Quindi è grazie a chi si è vaccinato che oggi questo paese, questo Veneto, è aperto. Tornando alla sala ibrida, il primo intervento è stato a due mani, tra i radiologi e il chirurgo cardiovascolare, poi un secondo intervento sulle arterie e uterine e nel pomeriggio è stata risolta un'astenosi carotidea, il presente che si fa a futuro. Ci siamo trasferiti a lavorare in sala operatoria con i vantaggi di essere all'interno del gruppo operatorio per cui potremo fare intanto procedure nuove che prima in radiologia non potevamo effettuare. Dall'altra c'è la combinazione del lavoro in equip. E che la collaborazione tra imprenditori e regione qui funzioni alla grande lo si è capito dal siparietto tra Zaia e il presidente Elios Livio Serradura. Io lancio la sfida oggi, qualcuno mi ha detto 3 più 3 fa 6 milioni, se li avete già i nostri 3 sul tavolo, l'avete detto o no prima? Come prossimo presidente? Qua lo facciamo? E si torna a parlare della strada pedemontana ed il governatore Zaia annuncia importanti novità. La strada pedemontana Veneta avanza a grandi passi e dentro l'anno sarà sostanzialmente percorribile nella quasi totalità dei suoi segmenti. Lo conferma il governatore del Veneto, Luca Zaia. L'opera si va concludendo, quindi a fine anno avremo il collegamento fino a Spresiano e fino a Montecchio, che vuol dire sostanzialmente quasi tutto il nostro asfalto di 94,5 km completato. Poi nel 2022 avremo, con scansioni di tempo diverse, l'innesto su A27 in quel di Treviso Nord e l'innesto su A4 in quel di Montecchio. La pedemontana sta già entrando nella quotidianità di un territorio che ha bisogno di una nuova mobilità. Il futuro è quello di pensare che questa infrastruttura darà sicurezza nella viabilità, darà una riduzione dei tempi che ormai già è palpabile, chi la utilizza se ne rende conto. E io dico anche, visto i flussi di traffico che si pronunciano buoni, riusciremo anche a rivedere i pedaggi. Però non deve passare l'idea che le infrastrutture si possono percorrere gratis, perché è impossibile. Qualcuno deve pagare. E Zaia risponde anche alle polemiche sui costi per gli utenti. E chi mi viene a dire, ma nella A4 il costo a chilometro è più basso. Sì, ma stiamo parlando di un'autostrada che è ammortizzata, che ormai avrà 50 anni, penso. Quindi siamo in un'altra era glaciale. Oggi non stiamo parlando di pedemontana venta, infrastruttura nuova che viene pagata 153 milioni all'anno, è un'infrastruttura che costa di tutto punto 2 miliardi 258 milioni di euro. E mancano pochi giorni all'inaugurazione del Ponte Vecchio, che si prospetta molto intima per defezioni e regole rigidissime. Insomma, un ponte per molti, ma non per tutti. Si prospetta una cerimonia davvero intima per la riapertura del Ponte Vecchio, in programma domenica mattina. Lo si capisce prima di tutto dal fatto che il numero delle autorità presenti si riduce ogni giorno. Non sarà presente il presidente Sergio Mattarella, e questo lo sapevamo già, ma non sarà presente neppure il ministro della cultura, Dario Franceschini. E probabilmente non ci sarà neppure il sottosegretario dei beni culturali Lucia Borgonzoni. Che la cerimonia sarà intima lo si capisce anche dall'invito che il sindaco di Bassano, Elena Pavan, ha inviato ai colleghi e alle autorità del territorio, che in sostanza aspetteranno nel teatro di Piazza Castello il taglio del nastro, destinato esclusivamente alla stessa Pavan e a pochissimi altri ospiti. Dopo sfileranno 800 alpini, seguiti almeno pare dai consiglieri comunali, mentre sindaci e autorità seguiranno la cerimonia dal teatro Gobbi. Sai mai che una manciata di fasce tricolori possano sballare gli equilibri dell'affollamento sul ponte? Intanto i locali di Angarano sono stati informati del fatto che i loro clienti saranno altrettanto intimi, visto che sarà possibile solo fare servizio all'interno e i plateatici non saranno utilizzabili. Insomma, una celebrazione, come diceva una vecchia pubblicità, per molti, ma non per tutti. Speriamo che poi il ponte torni finalmente a disposizione di tutti. E il presidente Zaia era presente anche all'inaugurazione dei lavori per la nuova Piazza Duomo e siamo a Rossano Veneto. Una giornata storica per Rossano Veneto alla presenza del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per la posa della prima pietra di quella che sarà la nuova Piazza Duomo. Un'opera attesa da oltre 30 anni che promette di diventare il nuovo cuore pulsante della vita sociale e religiosa del paese. Una giornata memorabile, grazie alla presenza del nostro presidente Luca Zaia e alle tante persone che hanno aderito. Mi sento veramente di ringraziare di cuore tutti i colleghi sindaci, le autorità civili, militari, religiose che hanno voluto far festa a Rossano. Nascerà una sala polivalente con cucina e bar in grado di ospitare 400 persone. La facciata sarà avvolta dall'elemento architettonico delle griglie frangisole in cemento e vetro, una concessione alla modernità che contraddistinguerà il nuovo look di Piazza Duomo. Il presidente Luca Zaia ha promesso di essere qui presente a Rossano Veneto nel giorno dell'inaugurazione della nuova piazza. Bisogna completare i lavori entro due anni però. Eh sì, il mio mandato scade nel 2023 e vabbè se riesco ad essere ancora sindaco nel momento in cui verrà terminata ben contenta di invitarlo ancora anzi sarà una festa ancora più grande. Se invece al posto mio ci sarà qualcun altro posso dire di essere stata assolutamente soddisfatta e contenta di essere arrivata fino a questo punto. Non era da tutti. Parliamo ora dell'altopiano che ha davvero paura dei lupi dopo gli ultimi incontri ravvicinati e le ultime predazioni. L'incontro ravvicinato che Marco Finco di Gallio ha avuto con i lupi che gli avevano appena ammazzato e sbranato un cane ha riportato in auge il problema dei selvatici in altopiano e ancora una volta i sindaci chiedono più attenzione per un territorio che ha pagato un prezzo altissimo in termini di predazioni negli ultimi mesi. Spero che questo fatto, questo ulteriore renesimo fatto che coinvolge in Pimis una persona umana il nostro concittadino possa non far cadere nel nulla o in vano il nostro appello il nostro appello a quello che è il buon senso il buon senso a livello di tutela della sicurezza pubblica e il buon senso a livello della tutela generale della biodiversità. Il sindaco di Gallio ricorda come il suo comune stia dando ospitalità a ricercatori dell'Università di Sassari per un progetto internazionale sul lupo. Vorremmo finalmente avere dei numeri certi su cui poter discutere a livello regionale e a livello nazionale quello che è la gestione del piano nazionale del lupo per capire se questa convivenza ha dei parametri oggi certi obiettivi oppure certi parametri saranno da rivedere. Ecco quindi l'appello di Munari alle istituzioni. Qualcuno si metta d'attenzione e di buona lena su questo tema per analizzare veramente i dati ad oggi in mano ai ricercatori e poter da qui ripartire e riscrivere quello che è il tanto atteso piano di gestione nazionale del lupo. E un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Tezze una donna è rimasta ferita. Una donna è stata investita nella mattinata a Tezze sul Brenta mentre attraversava la strada all'incrocio fra Via Loss e la SP59. Le sue condizioni non sono gravi ma è stata portata in ospedale per gli accertamenti di rito dopo essere stata stabilizzata sul posto dal personale del SUEM. La dinamica come pure eventuali responsabilità da parte del conducente della Mercedes che ha investito la malcapitata sono al vaglio da parte dei carabinieri di Enego. Paura e danni questa mattina in Via Croceron a Cassola dove un autocarro è uscito autonomamente da strada battendo una colonnina del gas. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno subito messo in sicurezza la zona. Il conducente è rimasto illeso. L'incidente è stato rilevato dai carabinieri di Bassano. Ed ora sentiamo alcune segnalazioni che ci arrivano da voi telespettatori. Parliamo di degrado e siamo a Rossano Veneto. Un'altra segnalazione di degrado ci arriva dai nostri telespettatori. Questa volta siamo a Rossano Veneto in piazza Filanda. Le immagini che state per vedere raccontano di una situazione di degrado, di abbandono, di incuria, di sporcizia che va avanti da qualche giorno e che ha reso insopportabile per i residenti della zona convivere con situazioni come queste. Alcuni residenti del posto ci raccontano che fino a qualche giorno fa c'era frutta e verdura in evidente stato di decomposizione il che rendeva complicato persino il passaggio a piedi in quest'area talmente forte era l'odore. L'area non è di pertinenza del comune ma si tratta di una zona condominiale. Gli interventi di pulizia realizzati nei giorni scorsi non hanno risolto il problema di inciviltà senza fine. L'estate è ormai finita ma continua il caldo affoso, spesso piacevole. E cosa pensano i cittadini di queste temperature quasi estive a fine settembre? Per me va benissimo, anche se piove ogni tanto va benissimo anche. Ma è un segnale che il clima sta un po' cambiando? Per me no, per me no, è un ciclo, è un ciclo che fa tutto. Fine dell'estate ma ancora caldo. Secondo lei è un bene, è contenta, è felice per questo? Assolutamente sì, 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 sì. Alissa tu sei contenta del caldo? Sì, sì. Tu sei contenta? Non sa che volte ci sono state anche le estati settembrine, quelli d'ottobre, se non dicevano, è normale. Ultimamente mi sembra che vada avanti un po' di più l'estate di solito. E lei come si sente in merito a questo? Però io non sono una che piace il caldo qui. Ah, non le piace? No, avete preso la persona sbagliata purtroppo, quindi però mi godo la giornata dai. Dico che ci sta il caldo, no? Per il filone che ci porta all'inverno, dunque dobbiamo solo prepararci a accendere il fuoco. Ma lei fa... Un po' di castagne nel fuoco, no? Lei ha in piano qualche gita fuori porta approfittandone del caldo? Certo. Dove andrà? Nel nostro territorio sicuramente. Una temperatura ottima, sebbene che io non sono molto propenso al caldo, però insomma adesso con questa temperatura così si sta molto bene. Lei signora cosa ne pensa? Anzi ho voglia di mare, tutt'oggi che penso, beati che sono al mare. Ma lei adesso ne approfitta, ma che ne approfitterete? Che anche se è autunno fare qualche escursione, qualche gita fuori porta? Oggi ho proposto a mio marito di andare su in montagna. E il ceramista Enrico Bravo in mostra a Cartigliano. Un artista cartiglianese conosciuto nel mondo per il suo talento e la sua duttilità. Enrico Bravo, ceramista ma non solo, ha scelto Villa Morosini Cappello per allestire un'esposizione fino al 2 ottobre, capace di riscuotere grande successo. E credo che sia un posto meraviglioso per fare un'esposizione. E dopo mi sono trovato con il periodo del Covid che ho potuto fare tante cose. Cartigliano veramente, in questo ultimo mese, è il paese dell'arte. Infatti questa personale è molto apprezzata, non solo dai cartiglianesi, ma soprattutto da tutto il Veneto e tutta Italia. E il Cartigliano Calcio si presenta in Villa Morosini Cappello da primo della classe, serata di grandi emozioni. Tu chiama le se vuoi emozioni, biancazzurra in questo caso, ma le sfumature di colore durante la serata di presentazione del Cartigliano Calcio sono state tante. Dal verde speranza per una stagione senza interruzioni e ricca di soddisfazioni, al rosso passione per il ritrovato abbraccio del pubblico. Sul palco hanno sfilato anche i ragazzini del settore giovanile e poi immancabile un omaggio dedicato a Matteo Faresin, sempre presente nei cuori di chi ama lo sport e non soltanto il cartigliano. Venendo al campo, Alessandro Ferronato festeggia la vittoria a Levico che fa volare il cartigliano a punteggio pieno in vetta alla classifica. Ed ora vediamo altre brevi notizie dal territorio nel prossimo servizio. Colceresa, l'8 ottobre alle 19.30 nel piazzale della chiesa di Mazon Vicentino si svolgerà la premiazione del concorso di lettura Superlettore d'estate e seguirà uno spettacolo teatrale. Lusiana Conco, il 29 settembre alle 18 nella sala consigliare del Museo Palazzon verrà presentato il servizio di doposcuola. Enego, il parco comunale di Val del Capitano è stato recentemente risistemato con panchine, tavoli e due caminetti realizzati da un artigiano locale. Bassano del Grappa, per le operazioni di sostituzione della rete di distribuzione del gas metano e i relativi allacciamenti nelle vie Villaraspa, Tabacco, Miazzi, Parolini la viabilità subirà alcune modifiche nei prossimi giorni. Cittadella, ultimi giorni per presentare la domanda per i buoni spesa, tutte le info sul sito del Comune. Borso del Grappa, viene indetto un bando di concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato. Schio, il 3 ottobre dalle 8 alle 20 i cittadini sono chiamati a votare per il rinnovo dei consigli di quartiera. Fontaniva, nei prossimi giorni verranno recapitati gli avvisi relativi al pagamento del canone del servizio di illuminazione votiva per l'anno 2021. Nuovo infortunio mortale in Veneto, il dramma avvenuto nel pomeriggio a Loreggia, vittima un 52enne. È precipitato da 5 metri di altezza mentre stava eseguendo lavori di tinteggiatura alla ditta Lavor Meta di Loreggia. Non c'è stato nulla da fare per Valeriano Bottero, 52enne di Campo San Piero, morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. L'ennesimo infortunio mortale è avvenuto nel primo pomeriggio intorno alle 15.30. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, titolare di una ditta di tinteggiatura a Loreggia, si trovava sopra un'impalcatura a 5 metri di altezza e stava lavorando una facciata dell'azienda quando all'improvviso è precipitato al suolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e lo spisal di Campo San Piero che sta cercando di ricostruire cosa abbia provocato la caduta e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza. Immediato anche l'intervento dei medici del 118, arrivati in pochi minuti in via Maestro Antonio Ceccona a Loreggia, dove assiede la Lavor Metal, ditta specializzata nella lavorazione dei metalli. Dopo numerosi tentativi di rianimazione, il 52enne purtroppo è deceduto per i traumi riportati. Schianto lungo la strada regionale 307, feriti una mamma e il suo bambino. Schianto lungo la strada regionale 307, due auto si sono scontrate all'altezza del comune di San Giorgio delle Perti che nell'impatto violento sono rimasti feriti una mamma e il suo bambino. Sul posto sono arrivati i pompieri per mettere in sicurezza i mezzi, mentre i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla mamma e al suo bambino che sono stati poi portati all'ospedale di Castelfranco Veneto per ulteriori controlli. Il leso e l'autorotomobilista è rimasto coinvolto nell'incidente, la polizia locale si è occupata dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Alle 20 questa sera Sport in Casa, la puntata sarà dedicata al weekend calcistico con highlights e analisi delle principali partite. Ospite in studio con Alex Iuliano sarà Alberto Zamprogno di Veneto Goll. Focus 21.15, tra gli ospiti parliamo di Enrico Costa, Luca Ferrazzoli, Alessandro Manera, Giuseppe Montuori e Gianluca Piva. In chiusura di telegiornale vi ricordo come sempre le previsioni del tempo di domani. Questa nostra edizione termina qui, ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.